Approvato il progetto da 25.000 euro per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Gonzaga a Battipaglia, la Giunta ha dato il via libera al progetto il cui obiettivo principale è mettere in sicurezza gli alunni delle scuole fiorentino alloggiati al momento presso l'immobile Opera Bertoni che insiste proprio sull'arteria in questione. In tanti infatti avevano segnalato la pericolosità dell'attraversamento pedonale in quanto il passaggio dei veicoli sulla strada avviene nella maggior parte dei casi a velocità piuttosto elevate. I genitori degli alunni in particolare avevano fatto esplicita richiesta di intervento lo scorso 10 dicembre con tanto di nota protocollata all'amministrazione comunale. I lavori sono stati affidati ad Alba e dovrebbero partire a stretto giro. I lavori sono stati affidati a stretto giro.